Alla conferenza stampa di presentazione della sua ricandidatura a Palazzo Lascaris, il capogruppo della Lega in Regione, Alberto Preioni, ha fatto un bilancio di questi cinque anni, attribuendo numerosi successi all'Aggiunta Cirio e al suo intervento. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone Tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera. Autosalone Tedeschi